Bentornati su Dynamode, oggi voglio proporre la terza parte per quanto riguarda la serie di video di Forbidden Power. Questo tratterà per quanto riguarda le regole di Forbidden Power. In un primo momento avevo pensato di realizzare semplicemente un unico video, un pelo più lungo, che trattasse appunto delle regole match play di Forbidden Power. Mi sono reso però conto che sarebbe venuto eccessivamente lungo, quindi ho deciso di separare questo video in quattro parti, che riguarderà il Real Battle Stitchx, la Letizian Army, la Legion of Grief e i Merchandry. Quindi avere un video per ciascuno di questi. In questo modo potrete andare a selezionare il video a cui siete interessati, o tutti i video a cui siete interessati, e quindi andare a vedere le varie parti senza avere un unico video grande a cui ogni volta andare a dover fare riferimento. Ecco che potete trovare quindi in descrizione il link alla playlist dove all'interno troverete tutti i video relativi per quanto riguarda Forbidden Power. Questo includerà anche l'unboxing per quanto riguarda il setbox di Forbidden Power e l'unboxing del libro di Forbidden Power. In questo modo potete vedere quello a cui siete interessati senza alcun problema e avere i vari riferimenti, tutti in un'unica locazione. E ora possiamo cominciare. E questo video in particolare è per quanto riguarda la Legion of Grief. Voglio ricordare che per beneficiare di questa legione le unità guadagnano una keyword chiamata Legion of Grief, quindi tutte le unità facendo parte di questa che è una nuova alleanza guadaranno questa keyword. Le unità che possono far parte di questa alleanza hanno come keyword, perché devono avere una specifica keyword, le keyword devono essere Death Walkers, Death Lords, Death Magis, Death Rattles e Nighthounds. Ecco che inoltre c'è un'altra limitazione, che se si vuole includere qualsiasi Mortarx, prima si deve includere Lady Olinder, che è il Mortarx per quanto riguarda i Nighthounds. E questo deve essere anche messo come generale, quindi sicuramente molto interessante in questo senso. È un qualcosa che come legione, come alleanza, vi permette di ottenere veramente molte diverse combinazioni, perché ad esempio qui si può mettere assieme quelle che sono la Mortis and Jane con i Nighthounds, quindi avere qualcosa di veramente molto bello a livello estetico, ma anche creare diverse combinazioni molto interessanti. Ora però possiamo andare a vedere quali sono le regole che compongono questa alleanza. E per quanto riguarda i tratti di battaglia che andiamo a analizzare, per la maggior parte questi sono collegabili a quelli che si sono già visti in Legends of Nagash come Battletom, e ho già realizzato un video per quanto riguarda questi. E i tratti di battaglia di cui sto parlando sono The Unquiet Dead, Invigorating Aura, Deathless Minion e l'abilità a comando Endless Legion. Va anche ricordato che per quanto riguarda Invigorating Aura c'è stata una FAQ che ha specificato come viene applicata, e questa viene a essere in modo che si può far risorgere un modello solo se completo, quindi con la cura del D3 non si può far tornare solo una parte del modello, quindi nel caso sia modelli con una sola ferita non avete problemi con quelli che generate e quelli che potete far tornare. Qualora però il modello abbia due ferite, solo altro più si può far tornare il modello, e la ferita mezza che rimane viene persa, quindi non è possibile farla tornare. Nel caso invece vogliate far tornare un modello che abbia tre ferite, vi servirà un 5+. Qualora sia un modello da quattro più ferite ve lo sognate, non può essere fatto tornare perché non siete in grado di far tornare con tutte le ferite. Inoltre vi voglio ricordare che prima va curato e poi si fa tornare, quindi prima viene usata un'opzione per curare. Qualora il modello sia totalmente, completamente curato, con un altro si può far tornare il modello, però appunto due utilizzi diverse, quindi tenete conto anche di questa opzione. Inoltre c'è stato un cambio per quanto riguarda Endless Legends. Perché? Perché è cambiata per quanto riguarda la descrizione che è presente su il manuale di Legends on Agash, che potete appunto vedere nel video, che adesso si fa alla fine della fase di movimento, mentre prima era nell'Aero Phase, quindi cambia anche alcune considerazioni che ho fatto. Comunque fare in modo che troviate per quanto riguarda il video in questione un update nella descrizione che specifica questa cosa, che appunto c'è stato questo particolare cambiamento che va tenuto in considerazione. Ad ogni modo potete trovare il link per quanto riguarda il video in questione in descrizione, quindi non vi dovete preoccupare di andarlo a cercare, è lì già a disposizione. E il tratto di battaglia caratteristico per quanto riguarda la Legend of Grief è Aura of Grief, che somiglia moltissimo a quello che è Immortal Majesty della Legend of Blood del Battletomb Legends of Nagash. Questo infatti permette di sottare 1 alla caratteristica di Brewery delle unità nemiche che siano entro 6 pollici da unità amiche del Legends of Grief. Questo diventa veramente molto interessante, soprattutto se pensate che può essere combinato con gli standardi di unità come Skelete e Zombie che danno un interiore malus di 1, quindi arrivando a meno 2 alla Brewery, quindi un malus di 2 alla Brewery che diventa molto interessante. Soprattutto se pensate che potete combinarlo anche con opzioni come i Morgas che danno un'ulteriore penalità, o se pensate che utilizzato in contesti come la regione di guerra Stichx, che eventualmente potete trovare in descrizione il link relativo, ecco che potete trovare veramente molte ulteriori opzioni che abbassano la Brewery nemica. Soprattutto se andate a pensare all'utilizzo in combinazione con i Taunt come unità, o anche con quelli dei Free Sheetercuts se prese anche come mercenari, perché vi voglio ricordare che eventualmente c'è anche quell'opzione. Eventualmente andate a vedere il video perché parlo anche di opzioni che riguardano proprio la combinazione con questo tipo di abilità che sicuramente è molto interessante, quindi sicuramente un qualcosa di estremamente utile in questo contesto. E ora andiamo a trattare quelli che sono i tratti di comando per quanto riguarda la Legion of Grief. E il primo dei tratti di comando che possiamo vedere è Amtis Glow, che permette di rendere il generale un mago, quindi fargli guadagnare la keyword wizard. E questo guadagna la possibilità di avere come incantesimi Arkham Bolt, Mystic Shield, e uno degli incantesimi per come funziona appunto la sfera di magia della Legion of Grief, Lord of Sorrows, che appunto potete scegliere uno degli incantesimi di questa sfera, Lord of Sorrows. Inoltre, se il modello che avete scelto è già mago, ecco che vi permette di scegliere un ulteriore incantesimo da questa sfera. Quindi diventa molto interessante perché avete accesso a due di questi incantesimi, quindi in questo senso è molto utile da poterlo utilizzare. Ovviamente sta a voi decidere, però dovete tener conto che è molto utile, per esempio, per caratterizzare le armate, perché vi permette di ottenere, per esempio, un'armata di The Frattle, con in generale che può essere il White King, e quindi potete fare in modo che avete almeno la possibilità di avere un mago all'interno, che è appunto in generale, in modo da renderlo maggiormente a disposizione. Quindi sicuramente diventa molto interessante e permette di caratterizzare molto le armate a vostra disposizione. Il secondo ritratto di comando a disposizione è Vassal of the Caving King. Questo permette, finché il generale è sul campo di battaglia, ogni volta che si spende un punto comando, di recuperarlo, perché si recupera indietro al 5 più un punto comando, quindi diventa molto interessante. Questo può diventare molto interessante, soprattutto se si pensa di includere come opzione aggiuntiva, anche Kurdos Valentine, che permette di controllare maggiormente il flusso dei punti comando, quindi avere un maggior controllo degli stessi. Sicuramente molto interessante e è da darci eventualmente una possibilità all'utilizzo di questo tratto comando, perché può essere veramente molto utile. E il terzo e ultimo dei tratti comando a disposizione è Tragic Emanation, che permette di sottare due alle caratteristiche di Brevery delle unità nemiche che siano entro 12 pollici dal generale. Questo vuol dire che, combinato con l'Auro Grief, se riuscite a posizionarvi entro 6 pollici dal nemico, avete un Malus T3, il che vuol dire che unità che hanno anche Brevery 10 vanno una Brevery di 7, quindi è molto interessante. Soprattutto se considerate che avete a disposizione i Taunt, quindi avete modelli che possono urlare, come le Banshee, o potete avere come mercenari eventualmente anche i Flash Heater Course, quindi sicuramente vi permette di sfruttare molto per quanto riguarda le possibilità di abbassare la Brevery nemica e quindi sfruttarla a vostro favore. Sicuramente è molto interessante, forse non il più utile, ma se utilizzato adeguatamente sfrutta veramente molto e vi dà molte opzioni a disposizione. E ora possiamo vedere quelli che sono gli artefatti di potere della Legion of Grief. E qui possiamo trovare il primo artefatto che è Grief San Jam, che permette nella Hero Phase, quindi ricordatevi che aveva fatto lì, quindi se siete all'inizio avete il problema che non siete abbastanza vicini, però diventa comunque molto interessante perché potete infliggere una ferita mortale a un solo nemico Hero, quindi vi ricordo che funziona solo sull'Hero, che sia dentro 6 pollici dal portatore, oppure curare una ferita che sia stata precedentemente allocata al portatore stesso. Quindi è un modo per rendere il portatore di questo artefatto più autosufficiente, quindi diventa comunque interessante perché vuol dire che è meno dipendente da cure esterne e può curarsi anche solo di una volta a turno, però da solo, quindi sicuramente molto interessante in questo senso. Il secondo artefatto è Mortuary Candle, che permette di sottare uno ai tiri per colpire di attacchi da tiro effettuati contro il portatore. Ecco che questo è praticamente un classico, non niente speciale, ma soprattutto vi consiglierei in questo caso, se dovete scegliere questo, di andare a prendere un artefatto da Malin Sorcery e avere un artefatto che tolga uno sia agli attacchi da tiro che a quelli corpo a corpo, che secondo me è molto più utile. Questo secondo me non è proprio un gran che calcolando, ci sono ampie alternative a riguardo. E il terzo artefatto in questione è Soul Drain Pendant, che permette alla fine della fase di combattimento di lanciare un dado per unità nemica entro 3 pollici in tal portatore e il 4 più infiggere una ferita mortale. Questo non è un artefatto che è niente di particolare, sinceramente non lo trovo così interessante perché devi essere in combattimento ed è molto casuale perché il 50% alla fine di potere infiggere una ferita mortale, quindi non lo trovo così eccezionale. E' anche vero che pensando di combinarlo per esempio con i Will of Doom dalla sfera appunto del Soros della Legion of Grief permette forse di amplificarne l'effetto, però comunque non trovo adeguata la scelta di questo artefatto del potere e probabilmente penserei a utilizzare qualcos'altro di molto più integrante e molto più utile. Ora possiamo andare a vedere quella che è la sfera degli incantesimi specifica di Legion of Grief che è Lore of Soros e il primo incantesimo che andiamo ad analizzare è Dread Weavering che permette con un valore di lancio 5 più di scegliere un'unità nemica entro 18 pollici e ridurre di uno i tiri salvezza degli attacchi che bersagliano quell'unità. Quindi diventa molto interessante e questo incantesimo specifico sembra essere realizzato appositamente per annullare in parte l'abilità a comando Onyx Schedule della Letizian Army quindi molto interessante in questo senso perché riduce la capacità di salvare per quanto riguarda un'unità specifica nemica. Quindi sicuramente è un incantesimo che vi consiglio di tenere in considerazione per utilizzare nella vostra armata perché secondo me può valorizzare molto il tipo di ferite che potete infliggere. Il secondo degli incantesimi è Whale of Doom che permette con valore di lancio di 8 più se castrato in modo con successo di lanciare un dado per ciascuna unità nemica entro 6 pollici dal mago che ha lanciato e al 4 più infliggere di 3 ferite mortali a quell'unità specifica che appunto avete ottenuto il 4 più contro. Sinceramente questo non mi convince molto il mio incantesimo va molto bene associato a Soul Dread Pendant ma ha un problema ovvero che innanzitutto ha un valore di lancio piuttosto alto che è un 8 più e quindi sinceramente lo consiglierei soltanto colore andiate a utilizzarlo combinato con la regge of War Stichx che almeno lo valorizzate avendo un valore di lancio abbastanza alto. Inoltre avete solo il 50% di possibilità di forse infliggere qualche ferite perché comunque è un D3 quindi non è nemmeno detto quante ferite mortali riuscite a infliggere. Sinceramente non lo trovo così utile sicuramente se è un delicazione che potete scegliere e riuscite a fare ferite è comunque qualcosa in più che sicuramente non è che va male però non è un qualcosa su cui punterei e quindi non è uno di quegli incantesimi che secondo me è un must have però è utile ma non lo ritengo così eccezionale. E il terzo incantesimo è Shroud of Terror che permette con valore di lancio di 8 più di scegliere l'unità nemica entro 12 pollici dal mago e sottrarre D3 alla caratteristica di Brevery di quell'unità. Questo diventa molto interessante anche se poteste dirmi sì ma è come il valore di lancio 8 più di Whale of Doom quindi è un po' difficile da realizzare perché è maggiormente valutato questo perché permette anche se realizzate nel minimo di comunque sottrarre 1 alla Brevery nemica vi ricordo che potrebbe essere combinato con Tragical Emmanations che permette di sottrarre 2 appunto se si è entro 12 pollici dal generale inoltre se arrivate entro 6 avete anche l'Auro of Grief quindi potete già arrivare così a un meno 4 in caso di tiro anche il minimo possibile quindi sicuramente molto interessante anche perché vi ricordo che avete anche altre ulteriori opzioni calcolando che potete utilizzare appunto standardi e anche unità per esempio come le Banshee i mercenari con i Free Sheeter Kurtz quindi creare un abbassamento ulteriore di Brevery per quanto riguarda le infigie riferite quindi sicuramente molto molto interessante e sicuramente lo trovo più adatto di Whale of Doom è un qualcosa che si combina molto con quelle che sono le caratteristiche a cui l'Alleanza Legend of Grief tende a focalizzarsi quindi sicuramente da tenere in considerazione ed è qualcosa che tendrei a tenere appunto d'occhio per poter essere utilizzato ok se passiamo alla nostra unità non può essere molto valida come opzione finale quindi che dire di questa Legend of Grief penso che sia molto interessante però vi voglio ricordare che non è tutto oro quello che lucica perché dico questo? perché vi ricordo che per far parte della Legend of Grief potete usare solo unità quindi nessuna Vosco Battalion e se è vero che dalla parte per quanto riguarda il Legend of Nagash Battletomb avreste una sola Vosco Battalion disponibile perché appunto è l'unica che ha il Deathrattle all'interno che sono le keyword utilizzabili il problema è che non potete includerla e lo stesso vale per le Vosco Battalion provenienti dal Battletomb di Nighthound quindi dovete tener conto che non avrete ad esempio accesso a un ulteriore artefatto perché non potete includere una Vosco Battalion ulteriore quindi non potete guadagnare questi bonus è anche vero che questo vi permette anche di avere molte varietà come opzioni perché potete combinare l'armata per realizzare diverse caratteristiche potete avere l'armata di Deathrattle che altrimenti non è molto competitiva ma qui diventa molto interessante potete avere per esempio la capacità di avere la possibilità di avere qualcosa che si basa molto su uno spirito etereo quindi combinare i Deathmages con i Nighthound qualcosa che punta principalmente sulla bravery nemica qui Deathrattle, Nighthounds, Deathmages combinato tutto assieme per ottenere qualcosa che si sfrutta molto tra l'altro combinando anche i Flash Sheeter Course perché avete la possibilità di inserire anche i mercenari i Flash Sheeter Course e qui per eventualmente guardate in descrizione trovate la playlist dove trovate anche il video riguardante i mercenari dove spiego anche qualcosa di simile per ulteriore portare a vostro vantaggio questo abbassamento di bravery ai nemici quindi sicuramente ci sono diverse opzioni e per quanto riguarda anche gli artefatti voglio ricordare che potete avere accesso solo agli artefatti presenti o nella Legend of the Leaf qui oppure all'interno di Malin Sorcery non potete beneficiare degli artefatti provenienti dagli altri Battletham quindi dovete stare molto attenti all'unico artefatto che potrete andare a inserire questo a meno di FAC che verranno inserite successivamente magari per permettere di inserire le Quest Compa Tennis però questo è un altro discorso ovviamente sicuramente è molto interessante in questo senso questa armata è qualcosa che vi consiglierei di provare perché vi permette di realizzare molti diversi tipologie di liste e secondo me molto interessanti e permette anche di valorizzare sia a livello di campagna che a livello di tentativo di prova anche di partite varie diverse tipologie di utilizzo dell'armata stessa e anche modi di giocare i Gio Sigma stesso quindi sicuramente è un qualcosa che vi consiglierei di utilizzare ad ogni modo dai no modo per questo video è tutto vi invito a mettere mi piace a iscrivervi al canale a suonare la campanella e a lasciare un commento se siete interessati ad avere specifiche e ulteriori video riguardo a questo tipo di video oppure se siete interessati a semplicemente assinarmi qualche domanda o qualche video a cui potete essere interessati da Danimo è tutto alla prossima grazie a tutti